Musica Buonasera, lo spettacolo di oggi che si colloca all'interno della festa della musica, giunta ormai alla sua sesta edizione e dedicato al musical I Miserabili, di Schomburg e Bubil, tratto dall'omonimo romanzo di Victor Hugo. L'allestimento e i costumi sono curati dall'Associazione Corale Sinfonia, che per la realizzazione si è ispirata alla pellicola del 2012, che ha successivamente conquistato l'Oscar, un lavoro interamente dedicato ai dieci anni di attività della stessa associazione Sinfonia, come tutte le altre proposte musicali e culturali presentate nel corso di quest'anno. Un progetto, questo, che vuole accostarsi ad un'opera magistrale, in modo profondamente personale. La trama si sviluppa principalmente attorno a due figure antagoniste, l'ex galeotto Jean Valjean e l'ispettore Javert, i cui destini si intrecciano con quelli degli altri personaggi. Conflitti personali e sociali, amore e passione. Tutto questo si esprime attraverso la musica e l'azione scenico-drammaturgica. Il progetto prevede la sezione musicale nell'originale lingua inglese, e quella narrativa in italiano, che collega le parti musicali attraverso un punto di vista particolare, quello di Fantin, una protagonista dell'opera, il cui spirito aleggia e racconta le vicende umane della realtà che ha vissuto. Tra gli interpreti spiccano alcuni giovanissimi, vincitori della terza edizione 2013, del festival che l'associazione Corale Sinfonia dedica da qualche anno ai giovani talenti. Ai numerosi ruoli solistici, si alternano quelli secondari e le parti corali, ma di grande importanza scenica e drammaturgica, curata da tutti i membri e collaboratori dell'associazione Corale. La scenografia si fonde perfettamente con l'azione scenica, attraverso un sistema di videoproiezioni, con immagini realistiche e vive. Ricordiamo oggi che è la festa della Toscana, una commemorazione di rilievo per la nostra regione, e con l'occasione ci ricorda quanto siano importanti i valori del vivere civile. Il messaggio di Ugo non è diverso dai motivi ispiratori della nostra festa regionale e di conseguenza, con la rappresentazione, cercheremo di offrire a voi tutti il nostro contributo per una giornata di rilievo. Grazie, grazie di cuore al Comune di Subiano per il Pratocinio e alla Proloco del Paese per il valido contributo. Al service Alberto Artusi e a voi tutti per la partecipazione. Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. . . a tutti. . 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 levando. . . . .